Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Antonio Izzo, il sindaco di Rotondi nell'Avelinese, il cui cadavere è stato ritrovato la notte scorsa a Cava dei Tirreni all'interno della propria auto. In attesa del riscontro autoptico appare probabile che l'uomo si sia ucciso ingerendo un cocktail di antidepressivi e grappa. Infatti nell'auto di Izzo, parcheggiata in una piazzola di sosta di via San Benedetto, la strada che conduce alla Badia Benedettina, i carabinieri della locale tenenza hanno rivenuto tre flaconi vuoti di medicinali ed una bottiglia di grappa mezza vuota. Da quanto si è appreso il 55enne medico sposato e padre di quattro figli avrebbe messo in atto l'insano gesto nella serata di lunedì. Nella stessa mattinata si era allontanato da casa facendo perdere ogni traccia. Izzo era riverso sul sedile di guida della propria autovettura, una Mercedes classe A di colore grigio, a dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato l'auto ferma nella piazzola di sosta con una persona a bordo. Il cadavere di Izzo è stato trasferito nella notte all'obitorio del cimitero di Cava dei Tirreni. Sull'episodio la procura di Salerno ha aperto un fascicolo ed il PM Cecilia De Angelis nella tarda mattinata ha conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia del sindaco di Rotondi. Già nel 2009 Izzo, sindaco del comune dell'Avelinese dal 2004 al secondo mandato da tre anni, aveva attentato il suicidio provocando un incidente con la propria autovettura. Il primo cittadino del comune della Valle Caudina è stato identificato attraverso i documenti trovati nell'autovettura.